Ciao ragazzi, con questa posizione bellissima, vi lascio il video di Brutalse, con un ospite speciale che vedete nel video Iscrivetevi al suo canale, lasciate like, iscrivetevi anche al mio e lasciate like Questo qua serve E vabbè, ciao ragazzi E poi le va No, vi devo dire un annuncio E domani esisterò nuovi, nuovi giorni Non so, ora vedo E ora ci vediamo Ciao, vi lascio il video Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video Lo stavo facendo 27 volte, questo video mi sta stancando Spero che questa qua sia la volta buona Stiamo con mio cugino, iscrivetevi al suo canale, questo qua è il suo nome G14, ecco l'ha riscritto G14 G14, mi, 8 staccato 8 Questo video Iscrivetevi al mio canale, è anche il suo Il suo onore G14,. Sono spazzo No, è buono Si, secondo il mioõ i consigli Iscrivetevi al mio canale, è anche il sui Il tuo E ragazzi qua c'è una tara fatta a fuori, c'è una tara solo che perdevamo, c'è una tara. Guarda la tara. No, non mi laggare c'è la Bibì 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 c'è la Bibì. Ok Bibì fatta a fuori. Perfetto. la prima partita ovviamente è vinta ci mancava solo che la perdevamo tutti che facciamo la prima partita è andata bene è una belva da lontano ma bravissimo ragazzi mi conosco di dirvi che ha 7.000 coppe cioè 6.000 coppe quindi è veramente fortissimo porta giochi di questo genere perché ci vedo se non mi lagganno attento attento scappano appena arrivo io mi metto davanti a te ok e mamma mia quanto sono famiglia e mamma mia quanto sono famiglia allora vabbè andata così così dai non troppo male non troppo bene schierica raga e qui sono i cosi di me comunque ragazzi lì in estate lo so non mi seguo tanto i miei video però io continuo a fare così mi alzo il morale e quando ti vedo qui ti vedo qui ti vedo qui ti vedo qui qua non c'è niente da fare e va bene mi ha bloccato bene eh sì me ne vado non vi preoccupo io me ne vado per poco però siamo ritornati di nuovo terzi non è male come posizione stiamo solo rimediando di più non ne vado 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 non ne vado pensati che il cedere dei babbini sono rosa non ne vado ne vado ne vado appoggiando spiaggia raga che la spiaggia raga vado abbiamo perso il corpo spiaggia raga facciamo un altro paio di partite poi se non sei che lo vedete qui al video che ho imparato a mettere gli effetti speciali quindi ragazzi devo un voto in un voto e forico spero come funziona nel video La Piper mi ha scosta, è uscita Mi sa che il contropa Piper da lontano non mi conviene Si è andato il tiktok Attenzione Mi aspettavo il controllo ma a cambiare di idea Ok C'è un berin E' morto Oh no Devo muovere il video No Beh ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Questo video era tutto per giocare con il mio figlio Ciao Ciao Ciao